come penso sappiate è uscita la consueta classifica delle province d'italia realizzata ogni anno dal sole 24 ore belluno non ci fa un figurone siamo oltre il trentesimo posto la classifica è articolata per ambiti lo stato economico della nostra terra non so i servizi il turismo queste cose qua tra le classifiche c'è c'è una che riguarda mette in luce il discorso della violenza sulle donne perché anche quello in qualche modo è un segno della qualità della vita se se c'è rispetto per la donna allora il gazzettino a pagina 4 il gazzettino di belluno di oggi mercoledì 14 dicembre state seguendo la rassegna di radio piave in blu come sempre condotta dai giornalisti dell'amico del popolo oggi ci sono io luigi guglielmi il gazzettino dicevamo approfondisce questo tema perché perché belluno nella classifica delle denunce di violenze sulle donne risulta quarto su 107 province italiane al quarto posto cioè siamo tra i posti dove ci sono più denunce per violenza sulle donne allora questo che cosa vuol dire possiamo leggerlo nel senso negativo vuol dire che qui da noi ci sono tante violenze sulle donne il che può anche essere ma possiamo anche vederlo in senso positivo e cioè vuol dire che qui da noi c'è una consapevolezza che certi comportamenti sono di violenza e si può denunciare violenza sulle donne piovono denunce il titolone a tutta pagina la classifica del sole 24 ore colloca la provincia dolomitica in quarta posizione su 107 per numero di esposti nel 2022 il procuratore luca la legge nel secondo modo che vi dicevo c'è più consapevolezza dei diritti qui da noi tra i primi in italia anche per truffe e frodi informatiche questo riguarda altre classifiche leggo qualcosa vi leggo qualcosa di questo articolo di giovanni longhi ripeto sul gazzettino nel fascicolo di belluno le bellunesi sanno farsi rispettare e magari fosse così insomma perché sappiamo bene che purtroppo tantissime violenze domestiche vengono rilevate in provincia di belluno e purtroppo le vittime delle violenze domestiche nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne ma insomma il giornalista il collega dice potrebbe essere questa le bellunesi sanno farsi rispettare una chiave di lettura del dato che fotografa il nostro territorio sotto il profilo statistico nel confronto con le altre province province d'italia e che parte dal numero di denunce sporte dalle vittime nel 2022 sono stati 31 più di 2 ogni 15 giorni il dato emerge dallo studio pubblicato in questi giorni sulle città italiane dal sole 24 ore sulle province italiane in realtà rapportato al numero di abitanti della provincia poco meno di 200.000 significa un indice del 15,6 di 15,6 denunce per 100.000 abitanti si fa sempre presto a fare i calcoli con belluno perché siamo 200.000 se sono 30 diviso 2 fa 15 per 100.000 abitanti una cifra che proietta il bellunese nelle zone alte della non invidiabile classifica nazionale che è guidata da trieste con 59 denunce che equivalgono al 25,6 da noi abbiamo detto 15,6 poi c'è bologna che ha 19,2 denunce ogni 100.000 abitanti imperia 16 rimini 16 al quinto posto dunque il capoluogo dolomitico seguito da asti e milano quinto avevano detto quarto mi pare non vabbè ci siamo capiti insomma in coda la classifica nazionale cioè dove si denunciano meno le violenze sulle donne quindi con il minor numero di denunce per violenza sessuale le province di ragusa frosinone pescara ed ascoli l'altro fronte sul quale si distingue belluno è quello del numero di denunce per truffe ma qui lascio truffe informatiche ma qui lascio leggere a voi invece vado al paragrafo successivo il numero delle denunce effettivamente elevato parliamo delle violenze sulle donne ammette il procuratore capo di belluno paolo luca a tutela delle fasce più deboli della popolazione è espressamente dedicato all'impegno di tre magistrati la cifra conferma la maggior consapevolezza raggiunta dalle donne in riferimento ai propri diritti e alla difesa della loro integrità anche l'eventuale zero presente nella casella delle denunce di violenza sessuale in effetti non dovrebbe non deporrebbe a favore di quel territorio ovvero che potrebbero non esserci episodi di violenza sessuale ma vero anche che le vittime potrebbero essere a tal punto intimidite da non presentare esposti sappiamo bene che uno dei problemi è proprio proprio quello non che quando c'è una violenza spesso la chi la subisce la donna stiamo parlando di questo in questo caso non ha la forza paura a denunciare e quindi continua a subire questa è la realtà va bene allora ho cominciato così questa rassegna stampa prendendo dal gazzettino di belluno e ora salto al corriere delle alpi sempre all'interno del giornale questa volta vado sul corriere per leggervi di una cosa così che mi ha un po anche anche commosso insomma se vogliamo no mi sembra che sia una cosa che così insomma ci tocca un po il cuore no casa di riposo di belluno cioè casa di riposo di cavarzano che succede che una donna ospite della gazzalante ha deciso di donare 50.000 euro per gli anziani pensate che che gesto una donazione di 50.000 euro per sostenere e valorizzare i servizi per le persone anziane ospitate nella casa di riposo di cavarzano dalla sersa la donazione arriva da un'anziana signora che attualmente si trova ospite proprio nella casa di riposo gazzalante dice l'articolo la donna ha deciso di offrire la somma di 50.000 euro allo scopo ben definito di aiutare i servizi per gli anziani presenti nell'rsa di belluno il comune che tramite la società partecipata sersa è destinatario della somma di fatto ha quindi dopo le varie analisi deciso di accettare la somma di denaro e ora dovrà decidere come utilizzarla all'atto pratico la donatrice che vuole restare nell'anonimato sottolinea l'assessore comunale servizi sociali marco dal pont ha chiesto espressamente che i soldi che ci ha donato vengano utilizzati per sostenere gli anziani e per organizzare delle attività a favore di quella fascia della popolazione per questo dice l'assessore comunale stiamo pensando di allargare l'area di intervento che ci permette questa donazione anche i servizi domiciliari alla fine quindi sersa gestirà la somma per andare incontro alle esigenze della popolazione anziana che in questo momento si trova in difficoltà difficoltà legate sia a questioni economiche visto l'aumento dei costi dell'energia dei generi alimentari ma anche perché necessita di un'assistenza domiciliare il nostro obiettivo è trovare delle iniziative che vadano a completo e diretto beneficio degli anziani conclude l'assessore dal pont allora scusate se salto di qua e di là ma adesso volevo tornare alla prima del gazzettino dopo avervi letto questa questa bella notizia dal corriere delle alpi mi interessava mettervi in rilevo all'inizio di questa rassegna queste due belle notizie l'alto numero di denunce eccolo qui il titolo in prima sul gazzettino agli amici della radio raccomando poi di andare a vedere questa rassegna in versione video così vedete le notizie che vi leggo sui nostri social su facebook su youtube su instagram allora su tutti i giornali nazionali anche su quelli che riguardano la provincia di belluno nelle parti nazionali trovate le notizie consentitemi la battuta sulla fusione nucleare che in america ha dato un risultato positivo da noi si parla di un'altra fusione la fusione dei comuni nel basso feltrino fusione a un passo i consigli di cuero vas e alano si sono riuniti insieme presentato lo studio per il progetto di unificazione quindi dopo cuero e vas che erano due comuni diversi e sono diventati un comune solo anche alano si aggregherebbe in comelico e cadore soltanto pieve continua a crederci e così i municipi rinunciano anche a molti milioni di euro però la situazione un po più complessa di quello che questo titolo riassume il lancio è molto articolato ci sono approfondimenti alle pagine due e tre perché poi ne scrivono bolzonello scarton e toscani le nostre colleghe donne brave del gazzettino consiglio comunale che è che saluto anche da qui consiglio comunale congiunto tra i comuni di alano di piave e cuero vassa all'ordine del giorno l'illustrazione dello studio che ha evidenziato ciò che potrebbe avvenire in caso di fusione dati che sembra abbiano messo d'accordo maggioranze e opposizioni il documento sarà illustrato ai cittadini poi il via all'iter verso il referendum voglia di comune unico che non sembra invece aver attecchito né in cadore dove ci crede solo pieve né in comelico dove non fanno evidentemente gola neppure i milioni di euro che entrerebbero nelle casse dopo la fusione in comelico c'era stata una forte spinta in questo senso da parte dell'associazione comelico nuovo che ha anche invitato degli esperti ha fatto un convegno su questo tema ma la reazione dei comeliani in generale è stata molto molto fredda per non dire proprio ostile negativa di fronte all'ipotesi di fusione allora le fusioni portano sicuramente tanti soldi per un certo periodo ai comuni che si fondono è un premio che si dà per favorire le fusioni c'è da dire che nel veneto pochi comuni hanno risposto e sono soprattutto in provincia di belluno giù per treviso ci sono un sacco di micro comuni che non hanno nessuna intenzione di fondersi e non gli interessano questi soldi evidentemente però poi il problema è finiti i soldi durano per qualche anno finiti i soldi in più a regime tutto il territorio viene veramente gestito meglio anche le periferie questo è sostanzialmente il dubbio più grande o di fatto soccombe il comune che non è sede comunale capitemi insomma non so longarone castellavazzo castellavazzo alla fine come sta il borgo valbelluna con mel lentiai e come si chiama e trichiana come è nata la fusione ecco i comuni e le fusioni all'anno di piave quei rovas sono pronti al matrimonio il titolone di pagina 2 maggioranze e opposizioni hanno accolto positivamente la possibilità di arrivare ad una unione fra i due enti in taglio basso si parla del cadore sono pochi i sindaci pronti a cedere la fascia e qui c'è l'approfondimento ve lo segnalo se volete leggere pagina 3 sempre su questo tema presentato lo studio come vi dicevo arrivano soldi 10 milioni in 10 anni sono appunto gli anni per cui dura questa premialità consiglio comunale congiunto acquero presentati i dati tecnici dell'operazione oltre a rendere più snella la macchina amministrativa in arrivo parecchio denaro ecco io personalmente credo che la cosa da guardare sia soprattutto questo la macchina amministrativa resa più snella perché invece che avere un vigile da una parte un vigile dall'altra ne ha i due ma sono governati dallo stesso dallo stesso ente no quindi magari vengono mandati più facilmente le sostituzioni si operano meglio era un esempio il mio del vigile no ecco più che i soldi che arrivano in più che di certo non danno fastidio bisogna vedere se poi la macchina amministrativa può funzionare meglio è quello il punto chiave secondo me dal 2013 ricorda il gazzettino in basso sono state 5 le fusioni comunali nel bellunese e questo appunto lo ricordavamo già prima non avevo citato la situazione di forno di soldo dove forno di soldo si è fusa soldo alto avevo parlato di borgo valbelluna e di cuero e vas che già si erano fusi e di longarone castellavazzo no ma c'è anche soldo e c'è stata la grande fusione dell'alpago dove farra pieve e puos si sono unite qua dice rimase fuori tambre no rimase fuori anche chies sono due i comuni che in alpago non hanno accettato la fusione va bene in basso c'è la situazione del comelico con la foto di francesco debettin si parla dei debettin anche in tutt'altro contesto su questo su questi numeri per via dei grandissimi risultati della dba che la loro l'azienda dei quattro fratelli debettin va bene francesco debettin è quello che ha preso un po' a cuore le sorti del comelico fondando l'associazione comelico nuovo comelico una parola che non esiste l'unico a crederci a crederci resta un comitato che appunto questa associazione comelico nuovo di cui vi dicevo un attimo fa torniamo sulla prima del gazzettino di belluno per vedere quali sono gli altri titoli la fotografia è molto carina quella di oggi perché si vede feltre presa da nord quindi la parte nord del colle non edificata che tutta bianca di neve neve anche in basso è la città si trasforma in località turistica bellissima già di suo feltre ma d'inverno cosa succede d'inverno apre l'anello del palio che diventa una pista da fondo succede da tanto tempo è una bellissima iniziativa di feltre il comune al lavoro per trasformare il centro di feltre in una località turistica invernale cambiando destinazione a parrà del moro sopra questa che si vede appunto è una foto dell'anno scorso dove corrono i cavalli del palio d'estate in agosto si presenteranno gli atleti degli sci stretti e si fa questo anello di fondo cittadino bellissima idea santa giustina i 40 anni di unifarco 6.000 farmacie associate oggi la ditta unifarco di santa giustina spegnerà le sue prime 40 candeline lo farà con una grande festa che vedrà protagonisti tutti i dipendenti che lavorano nello stabilimento l'unifarco azienda che produce cosmetici e integratori alimentari ha la propria sede a santa giustina dove vi lavorano 500 persone attualmente sono 6.000 le farmacie associate di unifarco che sono sparse in europa i prodotti che vengono realizzati a santa giustina vengono poi etichettati personalizzandoli con il nome della farmacia socia che li vende magari che ne so in germania con scritto farmacia tal dei tali di monaco supponiamo perché sono prodotti realizzati anche per loro insomma dall'azienda di santa giustina è stata una formula vincente sul discorso sullo stato di salute diciamo così di unifarco c'è anche l'articolo di prima pagina del corriere delle alpi di apertura ma che si gioca su altro tema cioè il corriere tempo fa aveva annunciato il possibile sbarco in borsa di unifarco poi in realtà io avevo parlato con persone importanti di unifarco diciamo così che mi avevano detto vabbè queste cose insomma lasciamo che le scrivano i giornalisti in realtà non è imminente e infatti oggi sul corriere delle alpi in prima pagina c'è il titolo unifarco investe sui robot sbarco in borsa rinviato il presidente riva abbiamo le carte in regola per piazza affari ma non è il momento giusto l'azienda compie 40 anni un milione di euro tra premi di produzione e welfare altri titoli su questa prima c'è il tema di alano di piave cuero bassa strada tracciata verso la fusione come abbiamo detto cortina la scuola punta a fondere il mondo della scuola il comprensivo e il polo superiore vedrete l'articolo anche sull'amico del popolo che arriva oggi verso pranzo per voi disponibile nella versione digitale sfogliabile come sto sfogliando adesso i giornali la cerimonia consegnata le pergamene ai nuovi maestri artigiani la foto centrale esercitazione sul nevegal per suem e soccorso alpino poi ci sono le le notizie di sport che parla di parlano di feltre rugby di serie b giocatore preparatore il feltre vola con sartor ma la notizia di apertura è ovviamente la vittoria di ieri dell'argentina contro la croazia ai mondiali in catar taglio basso è quello solito delle nostre storie del corriere delle alpi ed è dedicato proprio a quella donazione di quella donna alla casa di riposo di di cavarzano allora torniamo sul gazzettino di sul gazzettino di belluno per ritrovare i titoli della prima pagina che non avevamo ancora considerato nevegal ora la gara per la concessione questo articolo mi verrebbe voglia di leggervelo ma i tempi stringono vi leggo il lancio poi approfondisce di donà pagina 5 il nevegal compie un altro passo verso la giudicazione degli impianti di risalita un passaggio formale arriva dalla riunione di giunta che si è tenuta ieri pomeriggio uno scalino in più grazie alle indicazioni essenziali per le dichiarazioni di pubblico servizio che ci consente di attivare la procedura precisa l'assessore franco roccon ora possiamo far partire la gara per la concessione del servizio di gestione poi un giorno si scriverà la storia lunghissima della gestione del nevegal turistico dunque pieve di cadore un'altra donna alla guida di una regola sono segni del dei tempi che cambiano un'altra donna alla guida di una regola si tratta della presidenza di pozzale che è stata data è stata eletta manuela da cortà dopo manuela pradetto bon vecchio a valle di san pietro di cadore quindi bene benissimo si guarda avanti per fortuna in taglio basso due titoli limana il comune dedica una via ai costan dal comelico per fondare l'azienda e questa è una bella notizia perché insomma quell'azienda inventata dai comeliani ha portato tanto benessere tanto lavoro in val belluna ma il titolo portante della parte bassa del giornale questo l'alloggio gratis non basta nessuno vuole fare l'os è brutale scritto così non è che nessuno voglia fare l'os però sono pochi rispetto alle richieste e diciamolo pure gli os e gli infermieri sono tra sotto pagati rispetto al servizio che svolgono in ambito sanitario c'è chi guadagna molto 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 di più si fa fatica a trovarne bisognerà anche ritoccare gli stipendi è quello che hanno tentato di fare nelle case di riposo di longarone e zoldo neanche gli incentivi però dice l'articolo incentivi come l'alloggio gratis per sei mesi e i buoni pasto compresi nel contratto neanche gli incentivi riescono a smuovere il mercato degli operatori socio sanitari lente servizi alla persona longarone zoldo si trova costretto ad emettere un secondo avviso dopo che il primo in scadenza il 25 novembre non ha dato l'esito sperato cerchiamo urgentemente personale per il ruolo di os per i centri servizi di longarone val di zoldo lo facciamo offrendo benefici molto interessanti dice la comunicazione che viene dall'azienda questo il disperato annuncio divulgato tramite un comunicato ieri l'avete letto anche sull'amico del popolo il bando riguarda la formulazione di due graduatorie per l'inserimento a tempo pieno e indeterminato e prevede diversi incentivi ma se si paga troppo poco e se si programma male la presenza di 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 figure come queste che sono assolutamente necessario poi la si paga così e ci sarebbe da riflettere molto su questa situazione ma io mi fermo qui vi saluto vi auguro un buon mercoledì 14 dicembre ciao a tutti da luigi guglielmi